Ma certo. Non ti dispiace se bevo un boccetto? Azione! Oddio, non può essere vero. Cosa ti hanno fatto, Marina? Cosa ti hanno fatto? I tuoi occhi non saranno più gli stessi. Oddio, i tuoi occhi non saranno più gli stessi. Oddio. No, no, stop, stop. Oh, madre mia, Ada. Ma tu sei veramente una cagna, proprio fatta e finita. Ma chi ce l'ha mandata questa? Non si può sostituire. No. Che c'hai raccomandata, è protetta. Eh, vabbè, allora ce la teniamo, su. Ma come si permette? Motore! Vai, 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 vai! Giriamo. Azione!